Ciao, ti è mai capitato di partecipare a una discussione riguardante quali sono le caratteristiche che distinguono un musicista professionista da un dilettante? Ciao, sono Ruggero Pazzaglia, il fondatore di The Drum Booster, strumenti per il batterista intelligente, e a me è successo di partecipare a queste discussioni, specialmente sui social. Ho visto tantissimi tipi di risposte, alcune molto valide, come ad esempio il professionista è quello che ha la partita IVA, cioè quella persona che può permettersi in Italia di mantenere aperta una partita IVA facendo il mestiere del musicista, altrimenti se non hai la partita IVA non puoi rientrare nella categoria dei professionisti. Questo da un punto di vista burocratico non fa una piega, giusto? Però in effetti è un po' freddina come definizione. E allora, pensandoci e ripensandoci e guardando anche altre cose in rete, ho scoperto che la differenza che c'è fra un professionista e un non professionista è la capacità di fare cose che fanno male. Con cose che fanno male intendo mettersi a tavolino e pianificare una strategia professionale, fare quelle cose che si reputano noiose, burocratiche, oppure costruirsi giornalmente la fanbase sui social, imparare a scrivere un piano editoriale, imparare a fare marketing per poter vendere la propria attività. Queste sono quelle cose che a nessun musicista piace fare. Io per primo è una cosa che proprio mi procura un malessere indescrivibile. A volte mi procura entusiasmo quando date i risultati, ma il pensiero di mettermi a fare queste cose non è così entusiasmante come quello di sedermi allo strumento e suonare. Il non professionista è colui che rimanda in continuazione questo tipo di azioni perché fugge dal dolore avendo la scappatoia del primo lavoro, chiamiamolo così, di un altro lavoro, di un'altra fonte di reddito. Ecco perché procrastina, rimanda un certo tipo di azioni. Il professionista lo fa anche se gli costa un enorme sacrificio. Per cui, a parte la partita IVA, la caratteristica più rilevante che distingue un musicista professionista, e io ci aggiungo anche di successo, da un dilettante, è proprio la capacità di fare azioni che portano dolore. Fammi sapere cosa ne pensi tu nei commenti sotto a questo video e se pensi che possa essere di aiuto a qualcuno di tua conoscenza, condividilo sui tuoi social. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!